Amici di Super Tennis, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con colpo da campione, la rubrica di Super Tennis che cura la parte strategica, tattica, tecnica dei grandi campioni del tennis del momento. Oggi ci occupiamo di una grande campionessa, ci occupiamo di Ashley Barty, con lei la quale, già campionessa Slam, ha anche una storia molto particolare alle spalle, aveva lasciato il tennis, almeno in un primo momento, per darsi al cricket, poi è tornata ed è tornata vincendo. Una delle giocatrici più complete del circuito WTA. Ecco, nel corso di questa puntata di colpo da campione noi cureremo soprattutto il gioco di volo di Ashley Barty, che è la parte finale della costruzione del punto della grande campionessa di Ipswich, della grande campionessa australiana. Per far questo, parleremo di questo con Rocco Marinuzzi, tecnico federale nonché docente dell'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Ciao Rocco! Salve a tutti! E ovviamente con Simone Bertino alla lavagna virtuale e grazie a Simone vedremo anche qualche punto interessante della tenista oceanica. Ben ritrovati! Ebbene, Ashley Barty è una giocatrice che tutti conosciamo, è considerata una delle teniste più complete nel circuito femminile, ma Rocco, quando parliamo di gioco di volo, quando parliamo di volé, ci viene spesso e volentieri in mente lei, perché probabilmente è una dei migliori interpreti al mondo di questo tipo di gioco. Esattamente, Lorenzo, infatti è la più grande esponente delle giocatrici complete nel circuito femminile. Stiamo parlando di una giocatrice che sfrutta la sua completezza tattico-tecnica all'interno del suo piano strategico di gioco. Infatti, durante i match è possibile e facile apprezzare il diritto, ad esempio, giocato dal lato sinistro del campo, un po' come succede nel tennis maschile. Tante variazioni di ritmo, soprattutto attraverso l'utilizzo della rotazione in backspin di rovescio. Ma è importante citare il numero di approcci a rete, la facilità con cui la giocatrice approccia a rete. Possiamo dare anche qualche dato statistico. Infatti, ha una percentuale di punti vinti a rete che si avvicina a quelle del tennis maschile. Infatti, parliamo di due punti su tre vinti a rete. Ecco, a tale proposito, allora Simone ci può far vedere qualcosa a proposito di costruzione del punto e di finalizzazione con la volée. Esatto, vorrei mostrarvi una carrellata di punti su diverse superfici, perché questa giocatrice ha l'incredibile capacità di approcciare a rete, di variare il suo gioco su tutte le superfici. E partirei dalla Terra Rossa, mostrando già dalla risposta la sua capacità di utilizzare il rovescio un slice, in questo caso in una direzione centrale, per ritrovare la posizione in campo e con il diritto, come diceva Rocco, alla capacità di aprirsi gli angoli, soprattutto quando gioca il diritto dalla parte sinistra del campo, in modo tale poi da riuscire a seguire a rete, come vediamo in questo caso, e chiudere con una volée, cerca sempre anche con la prima volée, essere incisiva, in modo tale da vincere maggior numero di punti. Nel secondo caso, nel secondo video che voglio analizzare, vediamo col servizio che riesce già a spostare l'avversaria e di nuovo con il diritto, con variazioni di ritmo, di velocità, di traiettoria, riesce sicuramente a approcciare a rete e di nuovo a seguire bene l'approccio. Questo è un aspetto molto importante, il suo posizionamento rispetto all'avversaria, rispetto al colpo di approccio a rete. Vediamo adesso sull'erba la grande capacità di rimanere bassa per togliere tempo e spazio all'avversaria, riuscire quindi a muovere l'avversaria e ricevere questa palla nella zona centrale da cui ha una grande varietà di gioco e riesce di nuovo con la prima volée bassa a spostare l'avversario e giocare quindi una volée lunga, e poi nella successiva volée invece chiudere con una volée nella zona più corta del campo incrociata. L'ultimo approccio che voglio analizzare è quello con lo slice di rovescio. Sicuramente la sua specialità, il suo marchio di fabbrica è molto interessante perché destabilizza sicuramente il gioco delle altre giocatrici del circuito WTA, quindi sicuramente un aspetto molto interessante. Credo sia inoltre importante sottolineare nuovamente l'ottimo posizionamento in campo della giocatrice australiana, infatti è possibile notare nei punti e quindi qui chiedo supporto a Simone, come segua al meglio la direzione dell'attacco. Infatti non si posiziona al centro ma appunto segue la direzione dell'attacco. E un altro aspetto molto evidente è l'utilizzo di una volée corta e questo per far percorrere più strada la sua avversaria e quindi vincere agevolmente il punto. Lo stiamo vedendo infatti da queste immagini che si riferiscono allo scorso torneo di Wibdon che peraltro la Batti non a caso è anche andata a vincere. A proposito di queste immagini che abbiamo appena visto, abbiamo visto Terra Rossa, abbiamo visto Cemento, abbiamo visto Erba a riprova del fatto che comunque stiamo parlando di una tenista completa da questo punto di vista che a prescindere dalla velocità del campo, che sappiamo Erba essere magari più rapida rispetto alla Terra Rossa, riesce comunque spesso e volentieri Rocco a finalizzare col colpo di volo, vuol dire star bene fisicamente, avere i tempi giusti ma soprattutto avere la freddezza giusta per andare a chiudere. Sì, se una giocatrice riesce ad approcciare tante volte a rete, anche sulla Terra e a giocare tanti winner con i colpi al volo, vuol dire che quello è un suo punto di forza e quindi è giusto che continui a portare avanti il suo piano strategico su tutte le superfici di gioco perché le dà grandi benefici. A tale proposito vediamo anche quello che è un po' lo stile dell'esecuzione della volé e di dritto e di rovescio da parte di Elabarti. Esatto, voglio mostrarvi sia prima la tecnica della volé di diritto, poi quella della volé di rovescio e poi andremo anche ad analizzare lo smash, quindi un altro colpo al volo sicuramente che le porta anche tanti punti. Partirei dalla volé di diritto e mi soffermerei su il primo aspetto interessante cioè l'inclinazione del piatto corde, vedete in questa ferma immagine che mostra il piatto corde frontalmente quindi alla giocatrice avversaria in modo tale da iniziare la torsione delle spalle un aspetto interessante anche nella volé. Poi vediamo in questa situazione ad esempio la possibilità di analizzare la relazione che c'è tra la testa della racchetta e la mano dominante, vedete la testa della racchetta rimane in posizione sempre più alta rispetto alla mano dominante, un aspetto interessante per il controllo dell'attrezzo sicuramente. E l'ultimo aspetto su cui mi soffermerei sulla volé di diritto sicuramente è nel momento dell'impatto il controllo dell'arto non dominante perché vediamo le due mani che sono in linea. Questo aspetto è determinante se la giocatrice ad esempio ruotasse o portasse la mano sinistra troppo vicino al tronco rischierebbe di ruotare il busto e quindi di perdere equilibrio. E questi sono gli aspetti principali che possiamo vedere sulla volé di diritto. Per quanto riguarda la volé di rovescio sempre l'aspetto interessante sicuramente è la relazione tra la testa della racchetta e le mani, in questo caso vediamo la mano sinistra più alta rispetto alla mano destra, quindi un altro aspetto interessante che rimane in tutto il movimento di preparazione e poi quando si avvicina al momento dell'impatto verso il finale vediamo in questo caso le mani che sono su due piani differenti. Infatti vediamo la mano sinistra che va verso il fondo del campo mentre la mano destra che si muove in avanti. Questo è un aspetto determinante per l'equilibrio. Abbiamo visto alcune volé quindi da parte di Ashley Barty, Rocco nel rivedere in qualche modo quelle immagini che abbiamo preso da Roma mentre si stava allenando, cosa possiamo approfondire? Sì, credo sia importante sottolineare la stabilità della mano del piatto corde all'impatto che si evidenzia molto bene nell'esecuzione della volé di diritto e questo dimostra appunto una perfetta esecuzione da un punto di vista tecnico della volé appunto in questione. Stiamo rivedendo proprio adesso l'immagine della volé di diritto, dell'eleganza della volé di diritto da parte di Ashley Barty. Ecco, poco fa Simone ne ha parlato di un altro colpo molto importante nell'economia del gioco della campionista australiana, ovvero dello smash. Certamente Rocco non possiamo dire che Ashley Barty incarni alla perfezione dell'identikit della tenista moderno, ovvero di quella tenista di potenza da 1-2 tipo Sharapova, tipo Azzarenka, tipo ovviamente Serena Williams. Però lei riesce in qualche modo a rimediare grazie alla sua eleganza anche con dei colpi non facilissimi per una tenista non propriamente longilinea quale la Barty e lo smash ne è un esempio. Sì, infatti stiamo parlando di una giocatrice che ha una statura inferiore rispetto alla media. Infatti la giocatrice australiana ha un'altezza di 1,66 m e sappiamo benissimo che la media tra le giocatrici più forti del circuito è di 1,75 m, ma questo non... Non va a pregiudicare in qualche modo il rendimento del colpo. Esattamente, ma io aggiungerei di tutti i colpi eseguiti sopra la testa perché oltre allo smash sappiamo benissimo che ha un ottimo rendimento anche nel servizio. Prima citavi l'eleganza, io direi eleganza abbinata a un'ottima anticipazione motoria il che ci ricorda un po' la nostra Roberta Vinci. Grande eleganza, grande anticipazione motoria. A tale proposito, appunto, qualche immagine abbiamo anche riferito allo smash di Ashley Barty. Sì, per quanto riguarda lo smash, secondo me è importante analizzare tramite questo filmato due aspetti interessanti. Il primo sicuramente è la torsione delle spalle che avviene già subito nella prima parte della preparazione quindi un aspetto interessante per accumulare subito energia e poi è importante quando determina la posizione di massimo caricamento, la posizione a trofeo questa inclinazione delle spalle e sarà successivamente ancora più importante il ribaltamento della linea delle spalle per creare energia e quindi dare velocità alla palla. e lo vediamo in questo fermo immagine. Questo aspetto sicuramente è determinante per lei per riuscire a chiudere e vincere il numero di punti anche con questo colpo. Insomma è difficile parlare di margini di miglioramento a proposito del rendimento della volevo dello smash di Ashley Barty, anche perché altrimenti non sarebbe lì dov'è in questo momento in classifica, però parliamo di una tennista ancora relativamente giovane ricordiamo classe 96, deve ancora compiere 26 anni, ha già vinto tanto non è un caso che abbia peraltro vinto slam su superfici diverse a dimostrazione del fatto che comunque è molto brava a non snaturare il suo tennis perché riesce a renderlo efficace un po' ovunque. Io ringrazio Rocco Marinuzzi Grazie a te Lorenzo e a tutti gli amici di Supertennis E ovviamente ringrazio Simone Bertino per la nostra lavagna Grazie a tutti Allora è tutto per quel che riguarda la puntata di colpo da campione vi lascio alla programmazione di Supertennis Ci vediamo al nostro prossimo appuntamento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti